Villa Vicenzio, che più di altre città porta le cicatrici della violenza armata, ha accolto Papa Francesco nella giornata dedicata al tema Riconciliarci in Dio con i Colombiani e con la Natura. Appena atterrato, il pontefice si è arrecato nel terreno Catama, dove ha celebrato la messa per la beatificazione di Monsignor Jesús Emilio Jaramillo Monsalve e del sacerdote Pedro Maria Ramirez Ramos, vittime della violenza in epoche e contesti diversi e parimenti espressione di un popolo che vuole uscire dal pantano della rancore. La riconciliazione certo non è un cammino semplice, esige un impegno sincero, concreto, ma è possibile. Basta una persona buona perché ci sia speranza, una persona che apra la porta a quanti hanno vissuto la drammatica realtà del conflitto. Il coraggio di non perseguire la vendetta, ha precisato il pontefice nel corso dell'Omelia, non significa disconoscere o dissimulare le differenze e i conflitti, non vuol dire legittimare le ingiustizie personali o strutturali, quanto piuttosto superare la tentazione dell'egoismo e rinunciare ai tentativi di pseudo-giustizia. Nel corso della cerimonia, arricchita dai colori e dai suoni delle popolazioni indigene presenti, Papa Bergoglio ha parlato anche del rispetto del creato con lo sguardo rivolto all'Amazzonia. La violenza che c'è nel cuore umano, ferito dal peccato addetto, si manifesta anche nei sintomi di malattia che riscontriamo nel suolo, nell'acqua, nell'aria e negli esseri viventi. Un pensiero è andato infine alle vittime del terremoto che ha colpito il Messico, così come alla furia dell'uragano Irma che sta flagellando la zona dei Caraibi.